Scambio di consegne tra il presidente uscente, il professor Alaffio Siracusano, e il nuovo presidente entrante, il dottore Luca Marino della Fondazione Pisano. Ecco, professore, lascia un passaggio di consegne sentito nei confronti anche del dottore Luca Marino. Io quando lui fu a l'uno mio e io pensavo di diventare presidente della Fondazione Pisano, avevo immaginato che poi gliela lascio a lui. Luca, un nuovo incarico, questo incarico oneroso, ma importante. Oneroso perché chiaramente devo conciliare questo importante impegno al servizio della città con i miei impegni lavorativi. Nonostante l'onerosità, l'impegno che ho assunto è quello di fare il mio dovere e di farlo al meglio, anzi tutti noi del nuovo consiglio di amministrazione proveremo al meglio per dare alla città e ai fruitori della Fondazione Pisano, cioè i giovani che avranno diritto di ricevere le borse di studio, il meglio e il massimo. Questo è l'impegno nostro che finora mi sento di sottoscritto.